Musica 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 pat 설citi si paclampola 118.48 cough per un minuto e fa parte fine quindi non è un problema ma farà come Duhmeseu dà ne calz Să închidem geamurile, să închidem ușa, sà stingem becurile, sà ne deportăm più tardi dal scolio e non si non ci sono mai bravo, ancora ce!